E' molto da bene La storia di Sanofi, la conoscete bene noi facevamo una specie di cabaret a spettacolo sovietico su questa musica ultra veloce che parlava di Islam e di generale russi di smaragudi e di intanto di una certa specie di cercare di andare dentro c'era proprio l'ora e ora interpretavo un po' i cyberpunk anche quello che mi accanto in cerchi di macchina come lo vedete un po' come si dice l'Interceptor oppure c'è notella che l'arancia meccanica delle grosse in questo vogliamo finire e poi il Punk 77 quindi l'autodistruzione l'ho cercato a spettire l'interceptor l'interceptor e poi l'interceptor l'incontrano Giovanni Massimo Narelli Narelli Nel Quartonegri e poi insomma lavorare con loro insomma sono ancora qua dopo trent'anni a dire grazie a Reggio Modena e ci sono qua che ha trovato in mecca e non ha bisogno a me a me l'artista c'è da giovane c'è una ricetta c'è c'è da 12 anni vederle a me quella cfm c'entra 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 di Reggio c'è c'è l'interceptor in gioco l'unice c'entra c'è 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 questa prima torna c'è Grazie a tutti.